cominciamo con la prima domanda io ovviamente come molti persone sono sempre molto preoccupato e vedo che da un lato la guerra si sbilancia da pace a inasprimento della guerra stessa partiamo con ipotesi diciamo guerra nucleare con il raggiungimento anche potremmo dire così se si espandesse a una guerra nucleare verrebbe coinvolta anche per dire l'america a questo punto o rimarrebbe qua in europa e che rischi ci sono poi di arrivare a un escalation così elevata intanto io penso che solo fatto di parlare dell'eventualità di un escalation che arrivi all'utilizzo dell'arma nucleare abbiamo purtroppo rotto un tabù era dagli anni 50 che non si parlava dell'ipotesi allora davvero molto molto remota perché eravamo sicuri che alla luce di una comune razionalità tra mosca e washington nessuno avrebbe premuto il bottone rosso perché sapeva che questo avrebbe rappresentato una mutua distruzione il fatto che se ne parli ha purtroppo rotto un tabù io non credo che si arriverà all'utilizzo dell'arma nucleare o buona fiducia nel fatto che la cina in questo momento abbia un effetto nei confronti di un putin che anche messo con le spalle al muro potrebbe essere tentato di usare l'arma nucleare va detto che i russi hanno ripetuto più volte che la dottrina militare russa prevede l'utilizzo delle armi nucleari solo se venisse messa in discussione l'esistenza stessa della russia naturalmente possiamo anche pensare che putin scambi l'esistenza della russia con l'esistenza della sua del suo potere in russia chiaro chiarissimo chiarissimo attivare la discomfort attivare la musica attivare la musica attivare il corso